Giazza giornata dovrebbe essere bellissima oggi il sentiero delle grosse e altre le sinie e siamo pronti un due tre fronte cavallo re vedo tutto rosso Dario qua come mai come scioponi in salita tosta come partenza partenza abbastanza traumatica subito salita potente ci mettiamo nel bosco il sentiero si mantiene sempre con una buona pendenza il sentiero come penso fatto sarà un bel ricordo maggio ciondoli a fine giugno spettacolo wow spettacolo delle lecine spettacolo 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 Oh what do you feel? I don't want to be Oh what do you feel? Oh what do you feel? un pochino che era l'unba Grazie a tutti. Riffugio prima neve. 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 bosco, un po' umidizio, bisogna stare molto attenti, un po' umidizio, è bagnato no, umidizio. E' quasi un video questa mattina. Ma com'è se l'ha asciugato, stamattina era bromboli e lì c'era fango stamattina. Grazie a tutti. Comunque, lascia me lo dire, bisogna avere tutte le fassine al quarto pensando su per le qua. Decisamente no. Cioè, ragazzi. Oggi guai. Jace. molto calcio, su di la casa